Mario Balotelli è sempre sulla breccia del gossip e del pettegolezzo dopo aver chiesto di visitare il quartiere di Scampia ed essersi ritrovato fianco a fianco con personaggi della camorra napoletana, ora Super Mario fa parlare di sé per motivi sentimentali. Secondo un'anticipazione del settimanale Chi è scoppiato l'amore tra il discurso attaccante del Manchester City, ex dell'Inter e la concorrente dell'isola dei famosi numero 8, Raffaella Fico. I due da una settimana sono inseparabili, Raffaella Fico, personaggio notissimo del gossip e della tv, divenne famosa per aver offerto la propria verginità a uno sceico in cambio di un milione di euro. Grazie a tutti.